Lì dove fu tutto il cuore e tutta l'anima di Federico da Montefeltro si è inaugurata la mostra che del condottiero e mecenate rinascimentale ripercorre il tempo e la storia. A Gubbio fino al prossimo 2 ottobre sarà possibile visitare a Palazzo dei Consoli, al Museo di Ocesano e a Palazzo Ducale le esposizioni che vogliono celebrare i 600 anni dalla nascita del Duca attraverso manoscritti, dipinti, documenti, monete, armi, armature, sculture e arredi. La mostra Lì è tutto il cuore nostro e tutta l'anima nostra è stata presentata nella sala trecentesca di Palazzo Pretorio dal sindaco di Gubbio Filippo Sirati, dal vescovo della diocesi Monsignor Luciano Paolucci Bedini e da Francesco Paolo Di Teodoro, curatore delle esposizioni insieme a Lucia Bertolini, Patrizia Castelli e Fulvio Cervini. Il primo cittadino ha espresso soddisfazione per il grande impegno corale profuso nella realizzazione della mostra, sottolineando come sia l'ultima di una importante serie di eventi ad aver acceso i riflettori sui grandi personaggi della storia cittadina. Il vescovo Bedini ha salutato con entusiasmo l'operazione culturale, ringraziando tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita della mostra. In sala, i saluti del sindaco di Urbino Maurizio Gambini, il quale ha riferito che insieme alle regioni Umbria e Marche Promotrici, insieme al comune Eugubino e quell'Urbinate del Comitato per le celebrazioni federiciane, si è aggiunta anche l'Emilia Romagna, segno di quanto un numero sempre maggiore di territori che furono sotto il dominio di Montefeltro vogliano essere inclusi in iniziative culturali di spessore. La direttrice di Palazzo Ducale, Paola Mercurelli Salari, ha sottolineato lo sforzo nell'allestire una mostra di ben 262 opere, alcune arrivate da Londra, dalla Francia, ben 15 quelle provenienti dalla Biblioteca Apostolica Vaticana. A portare i saluti della Fondazione Perugia, sostenitrice dell'evento insieme alla regione Umbria, Lucio Lupini. Tanti manoscritti che sono stati prestati, come dicevo prima, d'altra parte non potevano che esserci prestati perché tutta la biblioteca di Federico da Montefeltro è in Vaticano, quindi sono manoscritti urbinati, bellissimi, splendidi, ma anche tantissime altre opere. Il De Prospettiva Pingendi di Piero della Francesca, abbiamo il primo codice, il più bello dei codici, che viene dalla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia e poi i codici di Francesco Di Giorgio, tutti autografi, quindi il codice Asburnam 361 che ha sette postille di Leonardo, quindi che è appartenuto a Leonardo, un codice senese, il codice Magliabecchiano, secondo primo 141 della Biblioteca Nazionale di Firenze, con la traduzione anche di Viteruvio, attività che Francesco Di Giorgio comincia a svolgere nel momento in cui arriva Urbino. L'impronta non la lascia solo nel sesto centenario, l'impronta di Federico comincia da quando nasce fondamentalmente, è un personaggio mai dimenticato, ha sempre avuto un grande impatto anche per essere grande pubblico, non fosse altro per il profilo, è ripreso perfettamente da Piero della Francesca, ma è di profilo dalla parte buona perché gli mancava un occhio. La giornata è proseguita con la visita nei tre luoghi museali più emblematici della città. Ogni curatore ha spiegato i dettagli delle esposizioni. A Palazzo dei Consoli la sezione dedicata al fare e pensare la guerra all'epoca di Federico da Montefeltro e quella legata alla sua cultura umanistica. Al Museo di Ocesano spazio alle scienze matematiche, astronomiche e astrologiche, particolarmente care alla Corte e al Duca. Infine, a Palazzo Ducale, la vita cortigiana di Federico, le vicende costruttive del palazzo e le arti a gubio nel periodo feltresco. Appuntamento dunque con un illustre personaggio della storia italiana, Federico da Montefeltro, il cui tempo diventa occasione preziosa per rileggere la storia di gubio tra la fine del 300 e gli inizi del 500.